Non c'è niente da capire, come mercanti di bestia sarà semplice incontrare Lady Alvander. Bene! La bestia ce l'abbiamo già! Ora mancano solo i mercanti! Per fortuna che mi sono messa il costume da mercante! Stai prendendo in giro? Vero? Se devi chiedere, non promette bene. Ehi, la giacca è a fosco? Almeno tu una giacca ce l'hai! Io mi sto inzoppando! Non lagnarti e cammina! Ehi, Temporalord! Vuoi veramente andare a piedi? Ci mettiamo una vita con questa pioggia! Basta lagnarti! Le avversità tempereranno il tuo spirito! Ho già affrontato abbastanza avversità, grazie tante! Almeno avremo il tempo per pianificare un discorso commerciale! Ce la faremo! Non cadete, andrà tutto bene! Giusto! Sfidiamo l'ira di Lady Alvander a testa alta! Sembra quasi che voglia farti colpire da un fulmine! Non mi aspetto che una traditrice dei Chitauri capisca il valore intrisico! Il valore intrisico del farsi ammazzare? E la schiettezza, figlia dei sotterfogli! Che problemi hai! Se di Alvander esegra, doppiezza e disodoro! Questa prova è dovuta alla tua reputazione! Soffia quanto vuoi, costruosa regina! Drax! Gamora è con noi! Per ora! Fatene una ragione! Cosa vuol dire per ora? Dico solo che hai una reputazione! Gamora, Drax è un po' sciroccato! Quindi... Andrà! Tattica interessante quella! Ehi! Più litighiamo, prima facciamo! Ammettilo! Di sta... Occhio! Wow! Grazie! Sei mancato troppo poco! Bello boss, Lady Albet! Quindi stiamo andando avanti? Sì! Ragazzi, concentrazione! Occhio qui, Gu! E mettetevi a riparo quando colpiscono! O ci spazzeranno via! Ottima idea! Ragazzo! Ok, potrebbe essere più pericoloso del previsto! Ma il pericolo non era la tua vita! Sì! Non la mia morte! Al primo di voi che vuole! Le torno sulla nave! Non hai detto che le testo profondamente abbagliate? Sì! Molte volte! E' un po' di voi! 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 E scuovaci! Alvino! Ah! Sembra che stia cercando di colpirci! Sei sicuro di non esserci mai riuscito? Abbastanza! E alla mia impressione la tempesta è sempre più forte! Vedi a mettere il furibondo oggi! No, no, no! Che cos'è l'esercito! Ah! State bene! Saremmo dovuti andare su Macro 4! Ehi! C'è una vecchia nave della Resistenza! Con la Brod ormai! Sarà stata questa qua insieme ai suoi amici Gitauri! Non eravamo amici! Ah, ragazzi! Eh, non saprei! Ma non si muove più! Attento, Roditore! Eh! Sono uscito vivo da mezzo mondo! Secondo te ho paura di uscire! Non è da solo! Attenzione! Che cosa fa'è? Mi fingi? Perché non vogliamo mai nostri amiche? Zacca, namora! È stato un taglio! Eh, cominciamo a vasaliare! Devo concordare con il rinunno! Conseguiti dei piatti, le mie alberto! Sai, credo che non ti diventano male! La verba è il sistema di guerra! Mostragli le tue ragici! Assorbesi in frutta roba! Deve essere così piccolo! A nelma esterna si... Eh, sì, non lo so! Però non ve lo chiedessi! Il budino ha un coltello! Il tiro di nelma! La bella fioccia è fatta! Occhio, gli asciugni! Lasci, mettili al tappeto! Fuori! Cosa sono questi cosi? Uno dei marazzini amati! La parte esterna si rigenera! Distrug... La verba accelera! È qui, la bella! Stiamo sannroiati! Venire fuggiata sarà abbastanza pesa al tanto! Non ce l'ha fatto! Will! Il roditore sta per essere soprafatto! Dietro di te! La verba è sul piede di guerra! Stavano per asfaltarmi! Figurati! Ok, bene! Ora sono andato! Oh! Piova e c'è la vigna! La barba esterna si rigenera di continuo! La verba esterna si propone tra noi e il nucleo! Quindi sono così i mostri da queste parti? Siamo fuori dal santuario di Lady Albenner! Queste creature non sono sue, sono cibo! Sì, ne hanno tutto l'aspetto! Sbrighiamoci o diventeremo noi cibo! Dove razzo sta andando? C'è un sentiero che attraversa la jungla! Cercate di risalire! Più pratico scalare il guscio che la fanghiglia! Non mi piace molto chiamarlo guscio, visto che stiamo per salirci sopra! Infatti non è un guscio! È un guscio vuoto di un'era passata, quando la guerra infuriava più tremenda dei venti di questo mondo! Peter, muoviti! Drax sta avendo una crisi esistenziale! Che ci fa qua giù una nave della resistenza, comunque? Non fa niente! È chiaramente precipitata! Voglio dire, che ci faceva? Ehi, Starport! C'è qualcosa su cui arrampicarsi? Non credo, ma forse se togliessimo questa robaccia dal fianco... Devo farlo a pezzi, dunque! Andiamoci piano, se si può! Questo oggetto ha vinto una guerra! Si rivede? Mai pensato di sparare a una nave della resistenza? Drax, puoi estrarre il reattore con delicatezza? Se fosse combustibile, il ratto gli avrebbe già sparato! Osservazione eccellente! Devo continuare a distruggerlo? No, no! No! Direi che ci siamo! Bene, siamo a metà strada! E adesso? Forse se potessimo abbassare quell'ala... Ho una manscoperta! Vedete di non ammassarvi mentre risalite! Eccole qui! I controlli alari! Ok, Rocket, il pannello di controllo dell'ala è tuo! Spero funzioni ancora! Ottimo! Occhio se ci sono luci rosse e lampeggianti! Non so... Perché? È una nave della resistenza! Ci va bene se c'è solo una trappola esplosiva! Sì, che verrà! Quella non sembrava una gelatina! Dicono che la voce di Lady Erbender è cheggi per tutto il pianino! Non sembrava neanche una signora! Attenti! Lì qua è passato qualcosa di grosso! Iai! Se vedete una cosa con gli archivi grossi come Drax, avvertitevi! Pensavo che avessimo già un mostro! Perché sta seguendo anche questo? Per sport! Un po' di movimento non fa male! Indovino! Una specie di... Mostro orrendo? Indovinato! Bravissimo! Possibile che non sappia che siamo qui? No! L'unica domanda è... Chi attaccherà per primo? Beh, forse... Non... Ci attaccherà! Sicuro di volerti perdere proprio qui? Tranquilla! Do solo un'occhiata! Un'ulteriore prova che qui non siamo i peperoni! Tornassimo indietro ogni volta che non ci vogliono staremmo fermi! In effetti! Ma noi abbiamo un uomo pianta per il nostro problema di piante! Lucio! Le piante non sono problemi, dice! Bravo di visitare il mitico serraglio di Lady Elbender! Gamora riesce a farci attraversare? Può servire a trovare Elbender! Dove hai imparato tale prevengenza, assassina? Eh? Non sai seguire una pista? Dobbiamo uscire da questa giungla! Perché? Qui è asciutto! Non è meglio essere umidi che smarriti? Non è detto! Le impronte sono profonde! La creatura deve pesare più di tutti noi messi insieme! Compreso Groot! Ok, forse senza niente! Ah! Piccolo cieco! Fantastico! Aspetta, quella è tecnologia Kitauri! Chiedi ai Kitauri! No, no! Lo è! È un ponte retrattile! Li usavano anche nella mia prigione! Peccato che i comandi siano dall'altro lato di una voragine! Non c'è tempo per bichellonare nella giungla! Scaglierò l'abominio oltre l'abisso affinché attivi il ponte! Ah sì? Beh, io posso attivare un buco nella tua faccia! Eh, mettimi giù! Nessuno lancia rocket! Sarà fatto! Figli di uno stupido cionco! Come attraversiamo? E ci sarà una strada alternativa! Wow! Che buio qui! Se spatti contro un mostro, dicelo! Pianeta di mostri! Giusto! Sparare in giro a caso non basterà a far fuggire i mostri, vero? Ehi! Io non sparo a caso! Tutto quello che faccio è ragionato e... Eroi! Ehi! Ehi! Ci sono altre rovine qui sotto! È incredibile che non sia crollato per le tempeste! Rax, questo riesci a farlo cadere! Potrei averli in nervosi... Scusa? Ci danno la carta! Bene! Occhio a non cadere! Incoraggi così! Luogo ideale per una scultura! Fermi! Lo sentite? Ragazzi, occhio! Attenzione! Non in cosa sono struosi! Questa è di fronte! Damora, aspettami! Scemo! Ti senti a forti che in questo posto sembrò un cimitero? Sto cercando di non diventare parte! Affronterò tutti i mostri di Lady alberga! I segnali si fa la teleprisa con tutti i dettagli! L'ultima vittima è mia! Ora è che i fulgiglioni! Prezzo di un insetto! C'è solo un insetto a volante! A che fare? Avete a me mancanato già acqua di trasformista! Dai alcuna speranza! Preferisco un nuovo spito! Ma che stio! Secche che mora! E secche servono a compiare valutami per questo! la nostra occasione non vedo l'ora del prossimo sconto cresceri per bene sarebbero tornati utili di possibilità basta con queste creature inferiori datemi un mostro io sono pronto già, anch'io sono parecchio confuso dov'erato siamo finiti guardatevi in giro ci sarà un sentiero da qualche parte perché siamo sicuri che sia di qua? ok, Gamora, scommetto che si va di qua 50 unità che sbagli io sono tu impossibile che siamo arrivati manca ancora tipo mezzo pianeta Lady Elbender supererebbe la giungla in sette passi ahah, di sicuro oppure soccherebbe le montagne in volo oh, vola anche? io so che spara raggi laser dagli occhi ora si ragiona ah, questa non la sapevo Gamora, ti va di farci strada? si dice che Lady Elbender percepisca quando la sua giungla viene danneggiata oh, un bombardiere nova è dalla guerra che non ne vedevo ci volevano una decina di navi per abbatterne uno una decina di navi o un agente chitauri lo prendo come un complimento nessun segno della fortezza no che problema c'è ora? paura no pensavo solo che è meglio se va qualcun altro per primo io e Groot sono la mercanzia solo uno di voi è la mercanzia piano A e... vai! su! no! vai tu! qualcuno vada! non sarebbe compito del capo fare strada? non sei pericoloso perché devo coprirvi le spalle? certo visto? è facile, sicurissimo ok non pensarci neanche a spingermi assassina ci sono tanti modi migliori per uccidere piano piano che razzo dobbietti non sarebbe io solo Groot dice che c'è qualcosa laggiù posto non importa certo che importa è troppo istante stoppio ho visto il pentacolo gigante viva! 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 bella presa non c'è di che non abituarti Peter Quill c'è qualcun altro qui trovato ragazzi sapete cos'è quello? no con vostra non c'è non c'è che cosa che cosa si è che cosa è che cosa c'è Non mi divertirò! Non ci mancia! Vettico, non trepa! Non ambozzata! Ma vita creatura! Concludi la battaglia! Ah! Moncherino sta scappando! Senza la coda tra le zampe. Io dico di inseguirlo. E parlo fuori. Ti hanno mai detto che fai paura? Sì. Vedo una via d'uscita lassù che è proprio quello che ci serve ora. Ci aiuterà a vedere dove stiamo andando. È deciso. Scaliamo questo marchigegno abbattuto. Sì, ok. E come facciamo? Bella domanda. Gamora, quanto in alto riesci ad arrampicarti? Scopriamolo! Stai godendo il momento, assassina? Che momento? Visitare la tomba dei tuoi nemici. I Nova Corps non erano miei nemici, Drax, ma di mio padre. Forse la tua maschera magica può esimerci da questa infruttuosa ricerca. La smetti di chiamarla così? E poi ci metto tanto. E poi ci metto tanto. A quanto pare c'è uno di quei vecchi banchi da lavoro qua dietro. Ok Rocket, vediamo se questo coso funziona ancora. Sì, va bene. Basta che non ci attacchi un qualche mostro. Mi dispiacerebbe sbrigarti. Allora, dove siamo? Stiamo aspettando per salire sul marking jane. Ah! Giusto. Forse quel cavo può servire, ma è troppo spesso per sparargli. Sicuri che vogliamo tornare in cima? Mi stavo abituato a non essere pradicio. Forse la tempesta si è placata. Di questo passo, in effetti. Quando crollerà quell'ala sì da poter lasciare questa fossa nefanta. A quanto pare stiamo aspettando che ci pensi Madre Natura. Listo. Ecco che succede quando si cambiano i pieni al volo. Che le ali servono a volare. Al volo. Capita? Io no. Prima una nave della Resistenza e ora una dei Nova Corps. Due su tre nella tombola della Guerra Galattica. Forse fungeva da base per gli assalti contro i Putauri. Oppure era una fortezza delle Blatte ed è da qui che hanno battuto quelle navi. Niente di utile lassù. Da qui vedo il reattore bloccato. Un paio di colpi dovrebbero bastare. Oh! Qualcosa è il nostro biglietto per salire. No, non è un coso né un biglietto. È un reattore. Drax, spostare quell'affare non è un problema, vero? No. Sono eccezionalmente muscoloso, proprio come Lady Alberta. Questa unità è estremamente pesante. Pensavo fossi eccezionalmente muscoloso. Almeno sai dove metterlo. Ho solo seguito le istruzioni del nostro capo. Se la fai, Drax? Se quel bombardiere è pieno di nuova morti, potremmo, ecco, alleggerirgli le tasche. Ormai gli spazzini avranno sparso le loro ossa in tutta la regione. Sarebbe strano trovare un dito, figuriamoci un corpo intatto. Me l'ha insegnato Thanos? No, l'ho imparato da sola. Adesso, Peter Guell? Adesso riesci a salire? Datemi solo un secondo. Eh? Quanti ricordi! Ah! Davvero! Visto? Facile! Ottimo lavoro di squadra! Li ho motivati! Bene! Cime viscide battute dal vento! Arriviamo! Sai, la nostra attenzione alla sicurezza è ammirevole. Una cosa è certa. Senza l'assassina non avremmo mai completato l'operazione. Drax, hai lodato Gamora? Sto solo dando credito a chi lo merita. Era anche ora. Sappiamo tutti che Gamora è superfica e superutile. E non ha ancora provato a ucciderci. Eccola! La fortezza di Lady Elbender! Adesso è decisamente più grande! Ha! Non è più grande! Siamo noi più vicini! Grazie Drax! Possiamo scendere da questa parte! Quill! Devi vedere questa nave! Ammirate l'ira di Lady Elbender! Persino i chitauri! Che sta facendo Capitano Distratto? E ci chiama Impazzisco! Wow wow wow! Ragazzi! C'è questo ammasso di morti a picchissimo qui a terra! E' interessantissimo! Infiliamoci tutti le dita! Guarda che ti sento! Ok! Proviamoci! Wow! Che schifo! Ragazzi! Mi conviene aspettare prima di scendere! Ma... Ma perché il raggio è così profondo? Incastrati ragazzi! Dici? Figlio di uno shmug! Prendi! La spada non va bene donna! Trova una corda! Sì! In fredda! E dove trovo una corda? Non lo so! A fondo della merba! Quill! Fa qualcosa! Di qualcosa! Di qualcosa! Solo! Solo zoro 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 zoro! Quill! Quel! E' 보라! Blue! 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 Che cosa hai fatto? Sordineggio. Che freddo. Token, qualcuno lo tiri fuori! Non lo so, i miei blaster non... È successo una volta sola, quando ero ragazzino. Non lo faccio apposta. Tecnologia spartoi. Pensi di averle viste tutte e poi succedono cose così. Potresti... Potresti... Lascia perdere le armi. Voglio... Quill, voglio capire cosa le fa girare, se no tanto vale dire che è magia. Ho un sortileggio. Ragazzi. Ho collegamenti genetico-neurali abbinati a qualche nanolega trasmutante. Ho un sortileggio. Ecco, se ricomincia. Chiaccio istantaneo. Chiaccio istantaneo. Bello! Siamo felici per te e le tue armi. Quella. È l'ora di darci una rimprescata! Anche la vita! Sì, va bene! Adesso funziona. Distruggiamo il sacco di... Sono disposente a fracassare quelle miselle a chi ti lo. Guardate che non ti scocchino in farna. Raghi, andrò! Sperisci! Quindi ci sono molti diversi? Speri! Lo che non hai fatto! Attentami! Assorte tutto quello che mi parliamo! A me il maesterno si trappone! Resistete! Ok, queste armi spaccano in c***o! Sì, è più forte! Non puoi darmi oltre! Sì! Rappare la carne dalle ossa non ha alcun effetto! Basta con la gelatina! Spaccate le ossa! Ma questo uomo è una ossa! C***o, 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 c***o! Ragazzi, distruggi! La fine è vicina! Ragazzi, tutti qui! Ce l'ho, Peter! Lasciami il piname! La mia lama non si fermerà, assassina! Chiamami ancora così e ti uccido! Non sono un nemico traditrice! Ragazzi, ragazzi, calma! Non litighiamo tra noi! Vinceremo insieme! Concentriamoci sul nemico davanti a noi! Stiamo calmi e condividiamo la vittoria! Ora, chi è con me? Subite la mia ira! Il modino ha un coltello! Guardate come si fa! Preparati al dolore! Non pubblici esplosibili! Meglio della gelatina! Non farà troppo male! Le promesso! Se quegli arancioni si affittinano! Siamo morti! Il pericolo mi inedio! Manca poco! Ma prima dobbiamo arrivare lassù! Direi che possiamo scavalcarlo! Ding ding ding! Dategli una stellina d'oro! Dobbiamo capire come renderlo scalabile! Le stelle sono fatte di drog... ... No, non oro, sennò sono planetoidi. Lì c'è un buchino. Potremmo riuscire ad allentare qualcosa dall'interno. Rocket, vuoi estendere quel cannone? Con la mia forza animalesca? Drax, riesci a tirare fuori quel cannone? Ti provo. Più ostinato del previsto. Impossibile, non vuole stare fermo. Non poter... Drax, puoi riprovarci? Perché? Non obbedisce. Adesso lo sistemo. Cidati. Posso ottenerlo per sempre. Affosto! Notevole. Ora dobbiamo estrarre il prossimo. Drax, riesci a estrarre il cannone in alto? Impossibile, troppo lontano da terra. Se non vedrò mai più una nave simile, sarà sempre troppo presto. Rocket, dovresti infilarti dentro quel buchetto per cercare di allentare il cannone dall'interno. Pronto! Nave Chitauri, piena di trappole e meccanismi mortali. Pensavo ti piacessero un sacco. Ah, è vero, mi piacciono. E ho sempre sognato di vedere una blatta nave dall'interno. Ok? Ah, cos'è questa puzza? Quello... Oh, razzo! È tutto a posto, Rocket. Trovato l'equipaggio. Pare che anche ai vermi facciano schifo i Chitauri morti. Rocket. Tranquillo. Fammi deviare un po' dell'energia rimasta verso il cannone e... Niente. Sai che c'è? Al diavolo, la faccio saltare. Cazzo... Aspetta! Pensa a tutte le trappole, tu... Guarda che roba! Devi aver acceso tutto quanto! Rocket, stai bene? Sì! Sono a tutto! Eh dai, Quill! Fammi esaminare quelle armi! Gamora, riesci a creare un barco in quel disatto? Sì, Peter Quill! Verso il palazzo della Gigantessa! Oh no! Un altro enorme tentacolo! Attento! Potrebbe fingerci morto! Oh! Non sembra un mostro felice! Beh, almeno è andato via! Torna dalla madre, Lady Elbender! Sì, ne dubito, Drax! Vedete come facciano le armi di Quill a creare il viaggio dal nulla? La fortezza è di qua, Peter Quill! Lo so! Sto solo esplorando un po'! Non abbiamo esplorato abbastanza? Io credo che esplorare sia un codice! Vuol dire che ha sbagliato strada, ma non lo vuole ammettere! In tal caso è il più grande esploratore di sempre! Dovreste prendere sul serio! Sì, sto solo trasformando l'acqua in ghiaccio! Buone! Si sa qualcosa sulla personalità di Lady Elbender? Si sa che da qui si vede casa mia! Cosa ci fai là sopra? Roba da ricognitore! Ricognizione! Direi che... proseguiamo nella direzione esatta della fortezza, sì? Ottimo lavoro, Peter! Tutto il tempo credevo che il rat dovesse l'arma da fuoco più notevole del gruppo Ho cambiato idea Gli spara ghiaccioli di Quill Sono versati Forse, ma il mio adorato scutafuoco ha 17.000 configurazioni mortali diverse Ah, per esempio? Per citarne alcune C'è uccidi Uccidi di tanto In fretta In largo In lungo In gruppo Oh, uccidi male! Anche uccidi bene, ma non l'ho ancora provata quella Eh dai, perché il ponte è sempre dalla parte sbagliata? Stavolta insisto per scagliare la bombina E io invece insisto per spingere bicipiti giù per il burrone A che fine? La misera struttura Ketauri è poco professionale Allora smettetela di litigare Troveremo un'altra strada Non dovremmo avere un guinzaglio per il nostro mostro? È una missione che richiede un po' di messi in scena, no? Lady Elvander è una cliente astuta O sarà interessata alla nostra merce oppure non lo sarà Ragazzi, ho trovato qualcosa È profondo Sembra promettente Avremmo poco spazio di manovra in caso di attacco Non staremo qui a lungo Vedete una via d'uscita? Se dobbiamo possiamo crearla Oh, la sentite anche voi? Sì, c'è decisamente qualcosa di schifoso Rax, puoi sfondare quel mio musolente Oh, è spiacevolmente aromatico Oh, sto contraendo ogni mio orifizio Ok, questa è strana Ehi là? C'è nessuno? Ok, troppe emozioni Tutti insieme Perché Lady Elvander l'ha messo in gabbia? Ah, perché è fastidiosissimo? Forse è cibo E sarebbe cibo? Sì, cibo per mostri Chissà che sapore ha Peter Perché proprio quel sapore? Approfittiamone Cibo per mostri Della gabbia Capita? Ci serve la gabbia Ma se entriamo nella fortezza Con il mostro che cammina al nostro fianco Ci deridono senza pietà Perché sussurri? Gamora pensa che questa storia del mostro Funzioni meglio con una gabbia E ecco perché L'unico problema è che dentro c'è il mostro incavolato Liberate la bestia La elimino io Perché l'ultima volta è finita così bene Ci servirebbe un piano migliore Sì Uno che garantisca L'incolumità del campo Magari Grazie Moncherino è tornato Ehi, dai, dai Ehi, dai E dai Volevamo solo la gabbia Neanche un ringraziamento per avermi liberato Ehi, dai Spacca, l'idrassi Un piatto spaziale è carattato Con toda azelita Ehi, dai 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 Impossibile Penetrarle Di debita della bestia Assio Questi casi sono delle scherze Non è pazienza Credo che bisogna Buggerellarmi per bene Continuo a sparare Scoperto che gli fai male Ehi, spara Sì, da qualcosa Grazie Sono cacciatori espressi Non mi faccio fregare Da uno stupido E la tua fine Che creatore eccezionale Come la loro E la mia Non mi faccia Non mi faccia Non mi faccia Non mi faccia Ancora Fatevi sotto Mostri Tu vieni con me meglio muoversi la pioggia le gelatine pure i tunnel puzzolenti e adesso tutti questi mostri io lo odio questo pianeta tu odi tutto rocket vero ma i tunnel puzzolenti in particolare e siamo una squadra se proprio dobbiamo puzzare dobbiamo puzzare tutti insieme gruth fammi un ponte la fortezza è subito dall'altra parte di quel diritto credo sia di qua non vedo un modo facile per arrivare lassù è facile non ne vale la non si usano le strade dovrebbero eliminare intere sezioni di giungla per farle che vorrebbe dire uccidere parte della fauna bene te lo meritano secca 9 è un santuario pare che chiunque lasci qui un singolo rifiuto se lo vedrebbe restituire da lady e il vendere in modo piuttosto spiacevole ma dai non è vero ah sul gelato wow posso fare anch'io i ghiaccioli no che razza di antipatico visto che ci toccherà trattare con la regina dei mostri quanto chiederemo per il nostro che vuol dire non siamo ieri siamo gente da fare sai dobbiamo pur guadagnarci qualcosa tranquillo rocket chi è l'erede al trono se lady elbender dovesse avere un incidente è già tra le mie dieci fortezze preferite ma che razzo hai detto che i mostri della zona di quarantena erano rari e ne ha già una mantria intera tempo sprecato quindi siamo quasi morti per niente e ci hanno arrestati bello vero moderatamente spassuosa bene quindi c'è una bomba orologia ogni passo falso è stato un passo nella direzione è giusta completare il piano migliore della storia puoi ripetere? e se avessimo portato qui uno di quei brutti musi solo per scoprire che Lady Elb ha la collezione completa? sarebbe stato un pacco esatto se ci fossimo riusciti e se i nuova corps ci avessero fermati mentre ce lo portavamo dietro? avrebbero confiscato la bestia visto? quindi va tutto bene finiamo il lavoro quindi che cos'è questo? uno scherzo? ok è più lontana dal previsto molto di più è un razzo di ponte dell'infinito ecco cos'è non fare il drammatico roditore il ponte termina la fortezza quindi non può essere infinito si è molto rassicurante dobbiamo darci una mossa tre cicli Peter lo stai dimenticando qualcosa? io sono Groot ah giusto la gabbia solo motivo per cui la dobbiamo portare è fingere che facciamo sul serio Groot pronto a strezzarti un po'? io sono Groot Peter Quail c'è ancora tempo per ripensarci la creatura albero non è così mostruosa Drax facciamo come abbiamo deciso sulla Milano mi stai impuntando ovvio che il roditore la... non mi sto impuntando è solo che mi rifiuto di cambiare idea perché è la scelta giusta ehi piccioncini andiamo c'è un ponte da attraversare spero che Lady Elbender sia ingenua come ti aspetti che sia tu tieni duro ciccio quando sarà il momento ti tireremo fuori alla rocate se necessari Drax Gamora mi daresti una mano? e perchè? per garantire l'incolumità del nostro leader oh e dai non guardare meglio quell'affare non lo tiro ricorda ciccio minaccioso come me solo più grosso io sono Groot non male non male ok proviamoci grazie a tutti